Un saluto dall'Etigi della mobilità lavori sulla rete idrica a Torpignattara per ridurre i disagi dovuti alla chiusura delle strade della zona e alla deviazione delle principali linee di bus. E' stata attivata una navetta circolare che collega il quartiere alle stazioni delle metro A e C, alle linee tramviarie 5, 14 e 19 e alla stazione Tuscolana. Restano deviate le linee di bus 105 ed N11 e limitati collegamenti 409 ed N409, mentre lo ricordiamo è stata riattivata la ferrovia Termini Centocelle. Per quel che riguarda i dettagli sul percorso della navetta attivata da oggi a Torpignattara in strada tutti i giorni dalle 5.30 a mezzanotte, dettagli su muoversiaroma.it.